Una società con cittadini plurilingui sicuramente è una società più duttile, più disponibile al cambiamento e in cui si riescono a trovare risposte anche più immediate e plurimi risposte, mentre una città con cittadini monolingui da ricerche fatte si hanno un'unica risposta alla domanda, mentre appunto chi conosce più lingue riesce a dare più possibilità di risposta e di risoluzione quindi dei problemi e quindi sicuramente è un vantaggio per tutta la società riuscire ad avere cittadini che parlano più lingue, parlando più lingue ovviamente per i nostri territori il tedesco e l'italiano, ma dando per scontato che tutti sappiano l'inglese che oramai è una lingua franca e che comunque nel prossimo futuro non sarà neanche più un dato di riconoscimento in quanto tutti dovranno saperla a prescindere.